13 maggio ci troviamo a San Mauro Torinese, i campi e in Audi. Oggi abbiamo organizzato un evento molto importante di beneficenza per Neri per casa. Il torneo è organizzato da disorganizzazioni eventi, come potete vedere qui stiamo lavorando, siamo in pieno fase di inizio lavori. Oggi si terranno queste partite dove al mattino giocheranno 14 squadre uno contro l'altro e poi il pomeriggio ci sarà anche la premiazione. Adesso avrei il piacere di presentarvi la squadra che rappresenterà la Russia. Disorganizzazioni eventi ha pensato di unire le forze dove abbiamo pensato di coinvolgere le squadre multietniche. E perché no, organizziamoci, uniamoci le forze per dare una mano perché ne abbiamo bisogno. Allora andiamo a conoscere la squadra russa che rappresenta oggi, qui nei campi di calcio e in Audi, a San Mauro Torinese. Buongiorno ragazzi, benvenuti. Buongiorno, buongiorno. Siamo qua perché vogliamo così collaborare con disorganizzazioni eventi per giocare tutti insieme. Fa sì che siamo, diventiamo multietniche. Avviciniamoci qua, c'è una bellissima squadra rappresentata da giovanissimi ragazzi. Relativamente. Relativamente. Grazie, grazie. Ecco, vabbè, però adesso rappresenta la Russia perché è così che vogliamo unirci le forze perché l'ho sentito di uno straniero oggi. Oggi sono straniero in casa mia. Face il condatto da ragazzi stupendi come loro. Che dire, dovete portare a casa una coppa perché oggi ci sono tre coppe importanti. Almeno due stranieri. Due? Secondo posto è già, sai, il mio. Ah, ok, ok, vi accontentate quindi di un secondo posto. Siete carichi, siete pronti? Sì, siamo pronti. Come si dice allora? Buona fortuna. Buona fortuna. Buona fortuna. Li aspettiamo qua al campo. Grazie ragazzi, a dopo. Grazie. 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 Grazie.